Buona giornata da Nikos Chiodetto. Martedì sarà una giornata decisamente più stabile e su gran parte della nostra penisola. Possiamo osservare come l'anticiclone non terrà più i suoi massimi tra isole britanniche e oceano atlantico ma sposterà questi massimi di pressione più ad est verso la Germania, la Francia, gli stati alpini e quindi ingloberà maggiormente la nostra penisola. Invece all'estremo sud ultimi strascichi con venti freddi di grecale per il minimo di bassa pressione che si troverà proprio tra la Turchia, il Mediterraneo orientale e la penisola ellenica. Andiamo al dettaglio della nuvolosità con ancora delle nubi a tratti minacciose sulle zone interne adriatiche e l'estremo sud, bello invece altrove anche sulla Sardegna è medio alto versante tirrenico. La prossima immagine ci conferma ancora qualche fiocco di neve a quote bassissime sull'appennino murisano e abruzzese in giornata e poi anche l'appennino meridionale con gli ultimi piovaschi specie tra Salento, Calabria e nord Sicilia ma insomma la situazione è da letta mette migliorando perché l'alta pressione e rinforzo sui paesi oltralpe e le nostre regioni centrosettentrionali si attenua via via entro metà settimana anche il freddo con valori che torneranno ad essere nelle medie del periodo. Prossima immagine appunto di bel tempo su gran parte del centro nord Italia e la Sardegna, ultimi fenomeni all'estremo sud, attenzione ancora i venti sostenuti sul basso adriatico e lo Ionio. Dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.